La compagnia di Agropoli, diretta dal capitano Francesco Manna con i militari del Norra, aliquota a radiomobile, hanno tratto in arresto una 23enne straniera, già aggravata di reati contro il patrimonio residente a Napoli, poiché responsabile di furto aggravato. La donna, con destrezza e approfittando di un momento di distrazione della cassiera di un noto supermercato di Agropoli, rubava 12 flaconi di crema per il viso che nascondeva all'interno del proprio body intimo. I carabinieri intervenuti sul posto traevano in arresto la donna per furto, recuperando e restituendo la merce rubata del valore di 250 euro circa al direttore dell'esercizio commerciale. L'arrestata, dopo le formalità di rito, è stata associata presso la casa circondariale di Salerno a disposizione dell'autorità giudiziaria.